Non sembra che fino al primo gol stanno facendo male, sembrava una partita discreta, non eccezionale, ma discreta. Gli ha preso gol quando l'avevamo presa in mano e dopo chiaramente è stato tutto complicato, il secondo gol ha complicato ulteriormente e dopo ci si è provato. Però fino al primo gol, insomma, a parte i primi 10 minuti, sembra che qualcosa di discreto l'hanno fatto. Dopo non era troppo tardi, dopo non era troppo tardi, sì 2-0, era complicativo. Ecco, vista la prova, amarezza, rabbia, che sentimenti? Quando c'è un momento negativo chiaramente non sei contento, insomma, questa parte di questo lavoro qui, non è che adesso veramente un po' di rabbia, sì, un po' di malezza, sì, ma insomma te la tieni, perché fa parte di questo lavoro queste situazioni qua, non è la prima volta che le dico e non sarà neanche tutto. Quindi un po' ci sono abituato, purtroppo quando gira anche non benissimo succede anche questo. E la devi prendere, sennò bisogna prenderla un po'. Senta, le scelte della formazione o dell'armatura? Durante la settimana? Non saprei cosa rispondere a questa domanda, ma... Sì, durante la settimana abbiamo fatto delle valutazioni, anche in base ai tre impegni ravvicinati, le tre partite in cinque giorni praticamente sono tantissime, e quindi abbiamo cercato un attimino di gestire alcune situazioni, tutto qua, ma era una cosa ovviamente decisa. E ha avuto le risposte, si aspettava la festa e scena? Beh, se perdo non penso, visto che si lavora per vincere, se perdo non penso. Però, insomma, anche adesso sto a buttare la croce al nostro, rispetto, sono andati in svantaggio, secondo me, in un momento in cui era già un pochino, ma soprattutto se l'avremmo in mano. Capita questo, capita anche a volte di subire e magari fare gol, nel momento in cui stai subendo, e calcio, insomma, succede. Le variazioni tattiche hanno risposto a quella che era... cioè, guardiamo solo il risultato e allora chiaramente no, oppure... No, non si deve guardare solo il risultato, no. Qualcosa di buono abbiamo fatto anche dopo, anche se in maniera confusionaria e quando più di qualcuno era abbastanza stanco, insomma, però è un pochino che si si lavora a sta cosa che fa. Come era stato detto, siamo dettando magari una decina di giorni, perché poi la squalifica di Firenze e l'impegno di Coppa Italia, diciamo, infrasettimanale, ha ritardato questo lavoro che abbiamo fatto questa settimana. Solo per questo. Era già in programma, ma è stato fatto. L'impressione ha avuto dalla Buchese? Chiedetelo al loro allenatore, no. A me il campionato, io non parlo degli avversari, perché non mi sembra corretto. L'ho vinto, sono stati bravi, ma non sono commenti che aspettano a me questi. Io parlo della mia squadra, come dovrebbero fare tutti. Mister, quando si arriva a questo punto del campionato, si comincia a parlare anche di mercato, ovviamente. Questa è una domanda che dovrebbe fare la società. Io dono un'opera sul mercato, non l'ho mai fatto. Ne abbiamo già parlato, ne stiamo parlando, con molta serenità, qualcosa faremo, però è anche prestino. Ne parliamo già da un pochino, insomma. Però, ripeto, le scelte le fa la società. Io vengo giustamente qui in volto, ma non sono io il direttore sportivo o il presidente. Io ho detto direttamente che questa è la prima di un giro di gare in questa settimana. Ecco, dal punto di vista psicologico, la prima che si perde può influire. Sì, questo sì. È come un girone a tre squadre, no? Quando perdi la prima, già vai in affanno, questo sì. Però, va bene, succede anche di passare il turno perdendo la prima in un girone. Quindi non ci sta, dai, non bisogna abbattersi, bisogna continuare a lavorare. Perché comunque, oggi, al di là di tutto, abbiamo perso. E quindi, secondo me, quando si perde, non bisogna stare lì a decidere se non si è meritato o no. Si è perso e basta. Quindi abbiamo perso. Però, secondo me, non abbiamo fatto una partita così uscena. Soprattutto dal quarto d'ora del primo tempo, 20 minuti, fino al primo gol, secondo me ci avevamo espressi bene. Direi bene. Dopo, chiaramente, il gol ha terminato tutto. E era proprio più che, però sono situazioni normali. Due gol in cui è mancata un po' la cattiveria in difesa per allontanare il pericolo o anche allontanare il pallone. Ci sono, diciamo che nei gol che prendiamo ci sono delle costanti. che non sono di adesso, ma sono di sempre. Sono d'accordo. E vorrei sottolineare che non dipende né dalla difesa 3, né dalla divisa 4, come si è visto. Perché il problema non è quello. I problemi sono altri. Dopo si può utilizzare una, si può utilizzare l'altra, a seconda delle necessità, come è giusto. E come era in programma, si è fatto. Però il problema non è questo. Perché ci sono delle letture di situazioni che sono proprie del calcio in sé e non della difesa 3. e non della difesa 4. Penso che quando c'è la gente che fischia e te le vai a cercare, è giusto che ti fischino e devi stare zitto e basta. Perché stasera ce le siamo tirate tutte e abbiamo fatto tutto il possibile per non portarla a casa a partire. Logicamente non volontariamente. Però abbiamo cercato in tutti i modi di farci fischiare e ci siamo riusciti. Purtroppo abbiamo perso una ghiottissima occasione. Perché, come dico sempre, non guarda la classifica perché, come avete visto, nell'ultimo mese più o meno la distanza tra terzo posto e zona play-out era 12 punti. E noi eravamo precisamente a metà, 6 da uno e 6 dall'altro. E oggi c'era un'occasione per buttarci dentro nel gruppone totalmente. E invece restiamo sempre in marcia. Sono pregi e difetti di un primo anno come il nostro. Penso che questa sia una squadra che abbia delle individualità importanti, abbia una rosa abbastanza ampia. che ci sta anche che non faccia mai un salto di qualità definitiva. Nel senso, se ci fossero, con questa individualità, fai un salto di qualità definitiva. Nel senso, fai 5-6 vittorie consecutive, 6 giochi cose importanti. No, ma visto che non è quello l'obiettivo primario, nel senso arrivare subito a giocarci cose importanti. Comunque, dobbiamo cercare di mantenere una continuità pur nella discontinuità. È un po', sembra un po' filosofico come cosa, ma è semplicissima. Noi dobbiamo riuscire a tenere una continuità di prestazioni e più o meno di risultati nonostante ci stia che questa squadra ce l'abbia nel DNA. Comunque quest'anno nostro ce l'abbia nel DNA di non essere continuo al massimo come può essere il cammino che sta facendo l'Alessandra, tanto per farci capire. quindi siamo un po' amareggiati per il fatto che questo salto di qualità non è che non arrivi, ma è ritardato da degli errori che ci portano a soccombere da soli o a metterci in difficoltà da soli. A volte, quando gli altri non ci escono, quando magari una partita equilibrata come quella di oggi, perché oggi il primo tempo è stato molto equilibrato, sono state un paio di occasioni da una parte, un paio di occasioni dell'altra, un momento migliore della Lucchese, un momento migliore nostro. Una partita equilibrata, un po' contratta, tra due squadre che se la giocavano. Nel momento in cui fai gli errori e ti butti i pesi addosso da solo, che vi fa? Devi stare zitto, accettare le critiche e andare avanti. Poi, paradossalmente, in tutte le brutte prestazioni che abbiamo fatto, abbiamo rischiato quasi sempre di cavarcela, no? Perché ovunque col Piacenza, che è stata forse la peggior prestazione che abbiamo fatto durante l'anno, alla fine potevamo anche pareggiarla. Oggi, pur con le difficoltà, e alla fine abbiamo rischiato, potevamo anche pareggiarla. Quindi, c'è sempre da vedere il lato negativo per crescere, ogni tanto guardare anche il lato positivo. Poi, adesso continuiamo e abbiamo un impegno importante giovedì, sul campo difficile, dove ho una squadra che è in un momento magari di sfiducia, e quindi se avrà ancora più voglia di combattere, di fare risultato, quello che dobbiamo avere noi, quello che faremo noi, e basta. Andiamo a lottarcela a Viterbo e cercheremo di fare il massimo per poi ritornare qua e giocarci di nuovo con l'Orbia e ottenere di nuovo il massimo. Ripeto, la mia ammerezza non è tanto per il risultato, no? Perché in una partita equilibrata, in una partita da squadre pari, perdi vinci, nel senso, pari vinci, è il pallone. Mi sono ammareggiato per il fatto che le sconfitte e le difficoltà la maggior parte delle volte scegliamo dal solito. Ma secondo te è più per errori tecnici o atteggiamento? Sbagliato. Ma è un mix. Questa è una squadra molto volubile. Quella discontinuità famosa porta la squadra ad essere un po' volubile. Quindi nel momento in cui c'è un errore tecnico, un errore individuale che capita in qualsiasi situazione, no? Cioè, se prendi un attimo di sfiducia, a quel punto ci sono quei 5-10 minuti di sfiducia. Nel momento in cui abbiamo una ventata di fiducia, abbiamo 5-10 minuti di fiducia. E quindi questo è è una pecca della squadra. È una penalità che dobbiamo migliorare, che dobbiamo affrontare. Però sono cose che non è come il lato fisico, il lato tecnico. Sono cose che devono migliorare col tempo, devono migliorare con l'andare. L'allenatore fa il suo lavoro durante la settimana. Fa le scelte che pensa siano migliori per la situazione. Io ritengo che l'allenatore influisca durante la partita sui giocatori. Ma ritengo anche che se un giocatore prende la palla e la caccia 50 metri dietro verso il suo portiere così a casa e fare tra la squadra di 50 metri e se siamo lì che rischiamo, l'allenatore ci possa far poco. Se facciamo 8 retropassaggi al portiere in pressione, l'allenatore ci può far poco. Se quello invece che tirare in volta la passa e la metti rimessa laterale, ci può far poco secondo me. Poi se stiamo a valutare le scelte o le valutazioni che fa in settimana, c'è un altro discorso. Su questa situazione penso che l'allenatore già incida poco, incida ancora meno. Perché alla fine il calcio è fatto, la differenza, te le fanno le giocate individuali, la qualità. E gli allenatori migliori sono quasi tutti gestori della capacità dei calciatori di fare la differenza. Quindi poi influisce il 20%. Ripeto, gli mister sta facendo il suo lavoro, ha fatto delle scelte, ha fatto delle valutazioni in base agli impegni, in base alla partita, in base a tutte le variabili che ci sono. Però ad una certa quando interviene l'essere del giocatore, l'allenatore, ma poi l'allenatore, il direttore, il padre Pio e la Madonna ci possono fare poco. Ma nel senso, comunque il presidente della proprietà è giusto che abbiano il loro pensiero. Da parte nostra, a parte mia, penso che tra tutte le sconfitte, questa è la più immeritata. Comunque siamo usciti dal campo veramente estremati. Mi avviso una partita molto equilibrata e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Comunque nel momento magari migliore nostro abbiamo preso il primo gol e poi come ci siamo sbilanciati abbiamo preso subito il secondo. Magari forse è mancato un po' di equilibrio in quel frangente e ora bisogna rivedere anche i gol. Magari, non so, se abbiamo fatto un po' di confusione da rivedere questi piccoli particolari che li abbiamo comunque pagati al massimo. Quella era la prima partita di un triplo difficile, cominciando con una sconfitta anche a livello psicologico può essere pesante. All'interno della squadra c'è un po' di preoccupazione? Diciamoci più a male come preoccupazione perché comunque sappiamo, sapevamo che queste tre partite ci davano o uno slancio per fare un tipo di campionato oppure insomma fare un altro tipo di campionato. Bucare la prima sicuramente fa male al psicologico adesso e stasera magari ne risentiremo e dovremmo essere bravi appunto dato mattina a chiudere nella testa questa partita e già pensare di Terbese. Non è facile, abbiamo insomma anche qualche giocatore importante fuori e appunto gestire bene le forze. Appunto rimane rammarico perché appunto la prima partita poi in casa di questo trittico l'abbiamo persa però appunto dobbiamo portare subito pagina. No, è un'analisi giusta perché è una cosa che avvertiamo anche noi. Come avevo detto dovremmo tirare fuori qualcosa in più e nei momenti appunto in cui dobbiamo fare manchiamo. Secondo me da un mesetto che magari abbiamo trovato un po' più un po' di equilibrio però stiamo forse sbagliando un po' l'approccio delle partite forse perché anche allenate magari abbiamo sbagliato l'approccio. Oggi abbiamo preparata magari in modo prudente e siamo venuti fuori a distanza. Vuol dire che più passa il tempo ci manca qualcosa perché appunto se facciamo un passo in avanti, poi ne facciamo uno indietro, poi uno e mezzo. Non dico che siamo questi perché dal nostro punto di vista non dobbiamo accontentarci di nulla, anzi non dobbiamo dire siamo questi quindi il nostro campionato. Però abbiamo appunto, abbiamo una rosa ampia. Le risorse ci sono e solo lavorando ne usciamo. La tentazione è anche nostra questa che magari ancora ci manca una vera identità. I giovani, Rosa, oggi voglio fare i complimenti a Romagnoli che comunque è un ragazzo che si impegna e secondo me ha un buon futuro. Poi comunque di Siena, del territorio del Siena, ci sono dei giovani che ci possono dare una grande mano, altri magari che hanno avuto meno opportunità come Riventre, come Lugarini e altri. Nell'ultimo periodo diciamo che secondo me si sono più mentalizzati a darci ancora più una mano. Magari all'inizio hanno avuto qualcuno che usciva la primavera, non era forse pronto mentalmente ad affrontare questo campionato. Adesso, nell'ultimo mese, vedo che lavorano in un altro modo, come un buonino ha fatto, già si vedono le qualità, ma adesso si vede proprio che sono un giocatore che ci può dare una grossa mano. Lo stesso Grillo, anche oggi, magari se lo vi scontino, oggi l'ho visto meglio. Poi chiaro che tutto passa attraverso le vittorie, però vedo una crescita anche da parte dei giovani che in futuro ci possono dare una mano.